Buonasera, buonasera, allora due minuti sulla mossa del fisuriano, la serie archite, l'esibizione, e intanto grazie ai organizzatori di averci ospitato qui, è una mossa che ci tengo a dirlo perché è una cosa molto particolare, una mossa di serial killer, quando lo senti in termini serial killer pensa un qualcosa di particolare, molto scenico, molto pubblicitario, molto da film americano, tanti molto molto molto. Questa è una mossa che io invece definirei storica, storica per due motivi, storica perché di questa tipologia di mosse non ne vengono spesso, quindi è un'occasione proprio di visitarla, perché non è detto che ci darà di questa intensità, con questa è una tipologia di reperti. La seconda cosa è storica perché ci sono i reperti, abbiamo centinaia di reperti sui serial killer, sulla loro vita, ma ancora di più, e forse la parte principale, sulle vittime, perché la prima volta centriamo sulle vittime e non sull'autore. Non è solo il fascino del serial killer, è purtroppo la vittima del serial killer, forse una mossa particolare che, al contrario quanto ne può pensare, cede dalla parte del sensazionalismo fabboso, fascino del serial killer, ma tocca a un argomento fondamentale che è la vittima. Ricordiamoci che dietro ogni omicidio c'è una vittima, pensiamo prima alla vittima. Volevo iniziare così. Però abbiamo visto, girando la mostra, che sono quasi tutti stranieri, il serial killer italiano per eccellenza è quello di cui stiamo qua a parlare oggi, e di cui tu hai parlato nel tuo libro, che è un libro in realtà rivisto, da una riedizione del libro che aveva scritto di Cero Ferrucini, che ha seguito un po' la vicenda del nostro, sa essere uno dei maggiori protagonisti proprio dell'inchiesta, e con cui che ha portato all'individuazione e poi all'accesso facciamare. Come è nata questa idea di rivisitare un testo di 30 anni? Una cosa un po' strana, nel 94-95, Lugiaro Ferrucini viene in servizio alla polizia scientifica, quindi diventa direttore di una divisione della polizia scientifica, tra l'altro la divisione 2-1. Quindi lei corrispita proprio anche sul campo? Sul campo sì, era il mio dirigente, è stato circa, se non ricordo male, due anni dopodiché è andato a lavorare alla Porta Europea, quindi qualcosa di molto importante. Cosa succede? Nei due anni lui era una persona particolare, purtroppo parlo al passato perché è scomparso circa un anno fa, ha sempre dato, è una persona di quelli che tutti i pomeriggi se non c'era nulla a fare, ci mettevamo tutti i seduti e lui raccontava. Perché lui aveva una formazione di più di 5 anni a quanti, come lo è per il DIA, quindi aveva una mentalità molto particolare. Quindi lui segue e ci segue per questo 1-2 anni e quelle cose un po' particolari, quelle cose un po' alchemiche, rimaniamo sempre in contatto, non capita spesso. Quindi dall'augurio di Natale a passo per Roma, ci vediamo per un caffè e è andato avanti. Fino a 3-4 anni fa, che ci siamo trovati sempre ovviamente per caso, abbiamo iniziato a parlare e abbiamo detto ma perché non stiamo lì per essere alchemiche? Alchemiche nasce tutta una serie di collegamenti Zoom. Lui a Torino e a Roma ci collegavamo con Zoom e parlavamo, parlavamo, parlavamo. Quindi ogni tanto andavamo a trovarlo, andavamo a trovarlo a Torino, ospite a casa sua, poi ritornavamo e parlavamo tantissimo. Tra l'altro, una parte di questo video, adesso lo metteremo sul canale che stiamo gestendo, Marvel's by Nero Crime, che stiamo cercando di fare il video. Però abbiamo tanto girato, tanto girato e avevamo iniziato a portare giù una storia che era praticamente un nuovo libro. A un certo punto, mentre stiamo veramente avanti, lui mi chiamo un giorno e mi dice e ti devo dire una cosa, non farò un nuovo libro. No. Colpo di scena. Colpo di scena. Perché? Perché il mostro di Firenze lo aveva ossessionato. Lui era praticamente ossessionato dal mostro di Firenze. Anche però ci avevamo troppo bene, abbiamo trattato. Là è nata una trattativa decentrata, modello Fiat anni 70 e, prendendo spunto dalla Fiat, no, da quello che avevamo portato fino allora, abbiamo deciso di prendere il suo testo e di aggiungerci un capitolo finale, che poi è sorposo, perché è, credo, 30-40 pagine. Quindi abbiamo rivisitato il capitolo finale. Perché il libro, perché non lo sapesse, il libro è un mostro abbastanza normale, lui lo fa in un momento molto particolare della sua vita, quando inizia il processo a Pacciani. Quindi è un libro che lui scrive in quel periodo, che non voleva pubblicare in quel periodo, perché voleva aspettare la fine del processo, invece la casa elettrice prende e decide di pubblicarlo. Usando un termine un po' particolare, è il libro quasi monco, se vogliamo, nel senso che inizia nel processo ma non lo racconta. Quindi abbiamo rivisitato tutti quanti i dubbi di omicidi, con le autorie della Fimold, perché lui conosceva benissimo, e abbiamo vissuto questa tipologia di... Ecco come nasce, no? Nasce da tanto affetto e una cosa che, e probabilmente lui accetta il contratto della casa elettrice, tipo tre giorni prima che poi, purtroppo, cioè è stato proprio tipo una cosa finale. L'ultima sua fatica. Noi non ci siamo rappresentati, lo abbiamo fatto così. Vabbè, allora io ti presento, Ardina Perry, vice direttore di Giallo, persona più che nota, è giocalista investigativa, esperta del crimine, e no, ne potremmo dire tanti, perché quando ci vediamo anche da lei, mi fa vedere le cose appese che... però voglio puntualizzare una cosa, perché è particolare, quando conosco Andrea Bialardi, il direttore di Giallo del Tempo, la cosa che mi ha colpito, e questo lo dico veramente senza... come di flaggeria, è che ogni articolo che viene pubblicato su una rivista che ha privato di 11 euro, quindi la rivistina, no, viene rivisto, ha fatto i giudiziari, io mi sono meravigliato per quello, perché, ricordo, la prima volta che mi sono andata a Bialardi dedicato su una cosa, è abbastanza facile, però era il discorso della serietà di qualunque cosa che era messa dentro, della regola, che poi è quello che ho la presunzione di dire dei miei libri, no, che si bastano con la stessa cosa, diciamo che più o meno facciamo la stessa cosa, io lo faccio sul giornale, serialmente, mentre si occupa i suoi libri, quindi in maniera più approfondita, sicuramente abbiamo un libro, è sicuramente più spazio, anche fisico rispetto a un articolo, quindi è chiaro che il muoio è tutto più o meno. Sì, è un libro, magari, poi sono tematici, quindi non è il tuo omicidio avviene in Italia dal 1930 al 178, mi approfondisce, sì, uno può approfondire bene. Lui di libri ne ha scritti un sacco, quindi, abbiamo la lista finita, qualcuno, sì, sono true crime, quindi, è true crime, che in Italia non è un genere che va tantissimo, tantissimo appassionati, ma che leggono poche, esatto, però, non prende così. Tra gli appassionati ci siamo anche noi, e quindi, è una cosa che ci fa piacere. Noi ogni tanto quando parliamo, diciamo cose che magari le persone normali possono prendere male, ma che bello questo caso. Ma la sai l'ultima che è drammatica, nel senso, non è la sai l'ultima, ti dice la barzelletta, ma la sai l'ultima, ti parla di un dramma, un dramma umano, è un modo di fare. è così, è così. E quindi, tuttiamo il nostro, grande serie attiva per, made in Italy, qualche altro. Allora, è un mostro abbastanza normale, un nuovo scusato, un nuovo abbastanza normale, l'Ausus, ovviamente, è basato su un concetto, e non voglio fare lo spoker, però, cioè, non vuole esizzare nulla, però si basa sul concetto, che il mostro di Firenze, era Pietro Pacciani. La faccio abbastanza secca, non parlo Pacciani, compagni di merende, no. Con Firenze, Pietro Pacciani. Pietro Pacciani, ricordiamo, che è stato condannato in primo grado, assolto in secondo grado, e la Cassazione, ha tolto, annullato la sentenza di secondo grado, quindi, ovviamente, in Italia abbiamo la presunzione di innocenza, e mi guardo bene a dirlo, diciamo che è rimasto alla condanna di primo grado. E poi è morto. E poi è decente. Quindi, diciamo che è morto da innocente, la Cassizia. Totalmente morto da innocente, questo è lo chiamo di dire. Cioè, vale per tutti, vale per i Pacciani, e domani vorrei che valesse pure per me, cioè, come diceva, il grande bosco, questo calcio, come diceva, il vigore è, quando arbitro fischia, colpevole è, quando va in galera, era, cioè, siamo un bosco, come il figlio di noi. Quindi, non Pacciani con compagni di merende, con un secondo livello, superiore, eccetera, eccetera, ma Pacciani come, veramente, persona, disculpata, e che ha fatto, tutto da solo. Allora, allora, dico nì perché, perché questo punto, che è bellissima domanda, da questo punto è stato un, io mi ti dico verso, verso chi ci segue da casa, quindi, e anche la voce, perché magari arriva, questo punto è stato un punto di tratto d'arrivo con Perugini, perché, Perugini, dice una cosa, che poi, l'assassino seriale, chiunque esso sia un last murder, quindi, che va sulla parte di eccitazione, esatto, la parte di eccitazione, nella zona sessuale, quindi abbiamo l'asportazione del sello sinistro, del zube, quindi ha delle fantasie, che lui mette, ovviamente in pratica, e quindi l'assassino seriale è di quel tipo, e un last murder, ha una caratteristica, che mette in atto, le proprie fantasie, quindi come fai ad avere una fantasia condivisa, è come se avessi un sogno condiviso, in teoria non viene, è pur vero una situazione, che è possibile questo, soltanto se c'è una dipendenza, tra i due serial killer, ma in realtà sarebbe serial killer, e braccio e tirapiedi, ecco, questo è un termine da, da piccare, quindi alla fine, c'era un omicidio, tra tutti che non tornava, come autore singolo, che è quello degli scopeti, che viene scoperto il 9 settembre, dell'85, quando il 9 settembre 85, all'ora 14, viene scoperto, il duplice omicidio, di Craverich e Mauriot, la coppia francese, che la ipotizzare un omicidio singolo, è molto difficile, quindi Perugini dice, mi diceva, sì, te la lascio passare, però, qualcuno, in questo caso, se parliamo di qualcuno, con Pacciani, doveva parlare, scusamente, di Vanni, l'ho aiutato, ma non è la fantasia di Vanni, è la fantasia di Pacciani, che diceva, tu Vanni, fai questo, non è una follia con di lui, esatto, è solo la follia di Pacciani, che magari aveva un'influenza, su questa persona, per cui, questa persona, è sempre stata, poi, a aiutarlo, assolutamente sì, il Pacciani, al di fuori, ognuno di voi, può impizzare, ciò che vuoi, anche perché, se ci fosse, una condanna definitiva, e le prove schiaccianti, non parleremmo, del mistero, del mostro di Firenze, diremmo, il mostro Pacciani, o il mostro Giovanni, cioè, è giusto che sia così, quello che, è molto particolare, che, il Pacciani, e là, quasi categoria, il Pacciani, non è, il contadino di Mercatale, perché, se no, pensiamo, non è meglio di, ma un contadino di Mercatale, può essere il più grande, se ne è anche in Italia, io mi ricorderò sempre, il 94, per un giro, mentre, metti a posto le cose, viene, trasferendo a noi, iniziano con i scatoloni, e troviamo, di tutto, la cerbottana amazonica, no, una lugher originale, c'era, che vera, so che, dicendo il termine, il pazzo scriteriato, lui apprezzerebbe, se ci sente, sarebbe contento, in tutto questo, tira fuori, vi ricordate i fogli, di protoglio a righe, quelli di uso bollo, con la doppia righetta, nella parte centrale, una poesia, che Pacciani, dal carcere, scrive a lui, in quartine, tutto il contorno, erano delle miniature, di sì, ma di una fattura, ottima, non era, cioè lui, quando voleva abbraccio, faceva dei quartisti, cioè non era il contadino, è una persona che non era, ha recitato anche una, processo, a un certo punto, e l'ha lasciato, ma è una persona particolare, non possiamo pensare, ora, di fuori veramente, perché poi, tutti quanti diciamo, diciamo, innocentissimi, rispetto a Pacciani, sì, deve essere condannato, per le figlie, ma lui, nel 1951, lui, sorprende, la sua fidanzata, che non era la sua fidanzata, era lui, una che lui pensava fosse la sua fidanzata, secondo il suo concetto, è come se io vado per stare, tu sei la mia fidanzata, cioè no, non funziona così, io vorrei, stancalizzare tutti, o mi donna, no, non funziona così, sorprende la sua, questi giudici, siamo tutti, fidanzata da lui, con un piazzista, uno stracciato, che stavano amoreggiando in macchina, lui prende, lui, e lo uccide, con circa 30 coltellate, lui era almeno 20 cm più basso, della vincita, era vincarino, piccolino, lo prende, se lo carica sulle spalle, fa un chilometro e mezzo, col cadavere sopra, lo butta nel lago, purtroppo, nel lago, c'è la, diciamo, della guazza, come posso dire, del mereterio, e poi la faula non può buttarlo più a fondo, quindi, prende e va, e al giorno dopo scopre, lo scopre, cioè, un chilometro e mezzo, con il cadavere, apprezzo, non solo, vai nel dibattimento, a certo punto, a un'altra volta, dice, no, ma io non l'ho quello di uccidere io, è lei che mi ammettizzava, e lei mi dice, uccide, lo uccide, lo uccide, ha la Miranda poi, gli hanno dato sei anni e mezzo, siamo andati altri tempi, il centro, sei anni e mezzo, una vittima, dice, e tra l'altro, questo episodio, è diciamo, uno degli indizi, poi, che fanno indirizzare la polizia, verso Facciani, perché, sappiamo, dai tempi non sospetti, e quindi, da quello che è uscito, ai tempi di questo uccidio, che lui aveva visto, questa, cioè un fidanzato, scoprirsi il seno sinistro, esatto, è uno dei riemenzi, che legherebbe, no, il discorso, perché poi, il mostro, quando portava via, i suoi figli, si concentrava, soprattutto, sul seno sinistro, quindi, questo è stato uno, uno degli elementi, che ha portato, il fatto che, avesse, appunto, la capacità, di uccidere, con quella violenza, non dimentichiamo, che dopo aver ucciso, questo uomo, straccivendolo, ha fatto sesso, con la, sua fidanzata, di fianco al travere, e questo piccolo, particolare, mi ha raccontato, quindi, diciamo, che ha unito, la morte, e il sesso, quindi, una, in carità, un'altra cosa, che, tra l'altro, allora, magari, non tutti conoscono, la storia bene, del mostro di Firenze, prima, un vicino, una coppia, si, mele, è il marito di lei, ora, chi è veramente, è così, quando si viene, allora, la, siamo in omicidio, 74, e poi via discorrendo, l'omicidio del 68, mi perdono le rete, un articino, nel 68, viene condannato, in via definitiva, il marito, della vittima, che era, in quel momento, con il suo, amante, il bambino, dietro, che si chiama Stefano, mele, bambino piccolo, e viene condannato, il marito, della, della, della vittima, il marito, di origini sarde, Stefano, mele, e, basta, si fa 12 anni e mezzo, aveva problemi, diciamo, psichici, esce, va in una comunità, e lo perdiamo, qual è il punto? Se, è stato condannato, nel 1968, con quella pistola, Stefano, mele, come ha fatto, la pistola, a trovarsi in mano, a un X, omicida del 74, cioè, c'è un passaggio, di pistola, perché abbiamo, gli stessi, gli stessi, è arrivato palissimo, si, riscontra, dice che la pistola, era questo, il grosso problema, il passaggio, della pistola, ecco, nel libro, al fine, c'è una cosa molto interessante, come noi diciamo, è che, praticamente, il, 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 pubblico, omicidio, del 68, Loci, Loci, Barbara Loci, 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 lo bianco, quindi, bene, Barbara Loci, è bruttissimo, non conoscere, il nome, mi scuse, Barbara Loci, ovviamente, sto parlando, di una povera, persona di cittura, quindi, però, stiamo parlando, di una persona, che i suoi, diciamo, amici, li gratificava, anche a livello economico, cioè, non è che lei riceveva, lei dava, meravigliosa, aveva amanti, sì, che lei, se avevano bisogno di soldi, gli dava, meravigliosa, la Barbara Loci, perché, il mostro di Firenze, che, se andiamo a leggere, tutti i nostri bravi libri, no, il mancolotto, del serie Achille, dice, colpisce all'inizio, dove, vicino casa, nei luoghi, no, ma, questa la sappiamo, no, silenzio i docenti, la becora morta, cioè, Starling, o c'è, ormai la colpiamo, perché doveva colpire, Barbara Loci, lo vediamo, lì abitava, a poveri, cittadini di metri, mirando a boi, cioè, la prima vittima, del circo ampio, questo che non si sa, quindi, ipotesi, perché questo, ovviamente, stiamo parlando nel giro dell'ipotesi, che Eugenia è andato là, da lei, e quel giorno, lei era al mare, con la famiglia, e a pochi cittadini di metri, avviene lo cresciuto, e, non vi dico, è un'ipotesi, perché non abbiamo la prova che lui, quel giorno, sia andato là, abbiamo la prova che lei non c'era quel giorno, però, il fatto dei propri cittadini è il meglio, è andato. Ma qui diciamo che lui, con questa Miranda, un po', era in vissa, è rimasto in vissa un po' tutta la vita, questa Miranda è la, la prima vittima del 50, si si, lui, è ragionata da trovare due o tre volte il caso, cioè, nel senso, lei, è una persona, è una persona, alla prima volta, è una persona, è una persona, è una persona, intanto se ne è rifatto una vita, con, si è riscusata, anche perché lei, invece, aveva 15 anni, era una ragazzina, era adolescente, era adolescente, quindi, anche questo, è un punto di ossessione, che possiamo trovare, nella vita, di quattro anni, noi dobbiamo pensare, credo che, cioè, il Pacciani va visto, in una maniera generale, perché se no, sono tutte situazioni separate, che invece dobbiamo vedere nel complesso, il 51 l'omicidio, avviato il, tutta una serie di reali, se vogliamo, che rientrano, la violenza alle figlie, perché va anche in galera, va in galera, e, tra l'altro, il, questo è un ipotesi per uccidio, il fatto che il mostro, non abbia agito, dal 74, all'81, altri 6 anni, 7 anni di tempo, era perché, i figli, in quel momento, erano diventati, poco più, più grandi, cieli, quindi, iniziava a violentare, quindi, riusciva a sfogare, magari, a sfogarsi, un modo diverso, però, il Pacciani, quella persona, che quando attraversava il paese, prendeva, la povera moglie, che lui definiva, per di te, grulla, lui la prendeva, la infilava, nel cassetto, tipo, degli utensili, e si faceva al paese, perché nessuno doveva vederla, cioè, non stiamo dando, il Pacciani, va visto nel complesso, se però, noi ci fermiamo, e a me fa piacere, veramente, tanto, stare in questa mostra, dei seri archivi, perché vediamo, realmente, cosa significa, essere seri archivi, la normalità, noi facciami, se noi pensiamo, che i seri archivi, siano sempre, dei super eroi, però, della faccia del male, secondo me, è una visione errada, questa mostra, ce l'insegna, e, detto questo, sì, poteva essere, un contrario nel cadale, dopodiché, lui è morto, dopo il primo cadale, quindi, è innocente, fino a prova, a contraria, ma, poteva essere, il montalino, il montalino, il montalino, il montalino, come abbiamo, appena detto, è stato in carriera, un paio di volte, nella sua vita, e quindi, il montalino, sì, però, aveva, appunto, a che fare, con ambienti, aveva potuto, imparare, a come comportarsi, a come gestire, anche, le, 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 l'agra, perché, aveva già avuto, a che fare, con, i dati, eccetera, aveva già mentito, dicendo, di non essere stato, inizio, di non aver violentato, le figlie, è, una personalità, che, ma, una persona, già bugiarda, di, e, come, inizio, particolare, allora, è un po' macro, però, parlare, di come venivano, ascoltati, i fetici, però, tecnicamente, è una cosa, molto rosa, come veniva, compiuta, la fondazione, non stiamo parlando, di qualcosa, chirurgica, stiamo parlando, una cosa, molto grossolana, il Pacciani, ha una grossa, manualità, lui, è stato, che ne so, mentre stava, in carcere, durante periodi, di detenzione, delle figlie, lui, imprese, un attimino, diciamo, la, chiamiamola, fantasia, tanto, di rimanere il tema, di diventare, abile nella ceramica, di venire abile nella ceramica, quando il ciclo, di visione, decise, di crearsi, un giacchetto, in pelle, da solo, iniziò, a lavorare, la pelle, cioè, lui, aveva, tra virgolette, le mani d'oro, non puntava nulla, allora, una cosa, come, perugini, arriva, a Pacciani, esatto, allora, in quel periodo, Perugini, stava, credo, a Roma, proprio, a fare un corso, quando Ligna, allora, per lo studio, il regolatore, lo incontra, e dice, guarda, nell'ambito della sedizione, che stiamo facendo, quindi, persone che, in quel periodo, erano liberi, erano in carcere, che avevano avuto condanne, legate al sesso, condanne per omicidio, esce una vista, in particolare, c'è Pietro Pacciani, Pietro Pacciani, è, diciamo, riceve, dicevo, nei carabinieri, una lettera anonima, guarda a memoria, ma credo, non sbagliarmi, il 12, scusate, il 19 settembre, 85, quindi, per esempio, 10 giorni dopo, dell'ultimo, dopo che ci sono usciti, ricevono una lettera, i carabinieri, che dice proprio, è Pietro Pacciani, andate a, cioè, proprio, specifica, a che Vigna, lo dice a Perugini, Perugini torna, dovrà tornare a fine corto, a Firenze, e inizia a vedere tutto l'elenco dei nomi, che per la prima volta, stiamo parlando, nel 92, la Sam, quindi la squadra anti-mossu, utilizzava il computer, quindi vedeva ogni nome, ogni nome vedeva sempre il problema, poi dopo di che, vedono Pacciani, che è di Garovigna, e dice, sì, però stiamo parlando di una persona, noi ci siamo prefissati, che dei vede massimo, ricordo che hanno dato 65 anni, qua vado a memoria, perché ovviamente, basato dal primo duplice omicidio, all'ultimo, l'età, 65, qua, siamo un po' fuori, cioè, era tipo qualche mese fuori. Diciamo che non coincideva neanche tanto, con il profiling, che aveva fatto, però su quello, magari, che l'ugine, è sempre molto, molto attento, molto, si avvaleva la facoltà, di non parlare, perché non conosceva, una favola che fa, prende, e dice, vabbè, vediamo chi è, perché, la prima cosa che fanno, vedono, il, lo salto di salute, e che lui aveva avuto, già prima, il pubblico, omicidio, un infarto, quindi, visto che, l'omicidio della Pettini, il corpo, viene spostato fuori, in altri casi, c'è, un forzo abitico, scartiamo il pacciano, ma io, per scrupolo, vanno a fare, dice, ma andiamo a vedere, che persona è, arrivano, praticamente, vicino, qui, in una doppia abitazione, pacciani, a un certo punto, lui esce, va, tipo, nell'orto, alza un tronco, immenso, e se lo porta, difeso, coloro che se lo guardano così, però io, mi immagino la scena, questa è però la mia immaginazione, modello cartone animale, colui che è camminato, Allora, dicono, vabbè, questo, cerchiamo di non scartarlo, ecco, il fisico ce l'ha, sta allucinando, ah, e poi, scusami, se mi scusate ora, il discorso compagni di merenda, è un discorso particolare, perché, finché vanni, va bene, ma gli altri, che ho dei grossi, mi spiace, magari ci sono persone, che pensano compagni di merenda, che in teoria, se state condannate, via del tutto, in definitiva, cosa sono deceduti, sarebbe facile di dire, la trattata di loro, però, troppe, 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 era proprio, possiamo dire, servite tecnico, luce, dai, sì, ma, avevamo dei problemi mentali, ma, diciamo che per il latino, cioè, per capire il livello, dei problemi mentali, mi pare Fucci, però potrebbe essere Lotti, siamo là, cioè, lui, Lotti, Lotti stava, ogni giorno, i ristoratori, gli avevano un piatto di pasta, che ovviamente, faceva tenerezza, tra l'altro, scordivano di sottoscala, o dal prete, in un'ambilazione particolare, il ristoratore, uomo, diciamo, abbastanza robusto, col barbone, un giorno, prende un giro, si mette, una conna della moglie, e va a servirlo, e lui, inizia a parlarci, dicendo che era una donna, che gli piaceva, Lotti, Lotti, non è che dice, capisce, pensa veramente, pensa veramente, che sia una donna, che fa la mazza, ora, pensare a una persona, comunque, che è indiscusso, intelligente, come Facciani, perché Facciani era intelligente, su cui non c'era nulla di lui, Vanni era, il postino e il cadale, un esecutore, ricordiamoci, che quando la moglie, è incinta, più la buca da le scale, quello è il fatto, che un attimo, pensate che si affidassero, a un lotto e a cucci, per fargli da palo, c'è, ce ne vuole, o magari sapevano, se lo portavano, dentro di fuori, si, la situazione è veramente, degenerata, il fatto della situazione, degenerata, purtroppo, cosa, la situazione, il fascino, i garecchi, tutti i tè, dei bagli, con il sguardo, cioè ammaliante, no, cioè, no, no, girando la mostra, dai, si vede, tirando la mostra, si ha uno spacciato reale, nel futuro, esatto, che non sono tutti, superman, muscolosi, eccetera, ma, scusi, prego, quello che si, si è letto, che ci fosse anche, invece una precisione, chirurgica, tant'è che si ipotizzava, che ci fosse un medico, dietro questa cosa, no, quindi, allora, anche perché ci detto, sì, cioè, no, no, assolutamente no, allora, da dove nasce, questa ritorazione, credo alla prima volta che venne asportato un cube, esatto, il procuratore, in conferenza stampa, disse, ci volevano, siamo indagando pure sui chirurghi, perché c'è stata questa asportazione, il giorno dopo, cioè, si è creata, a Roma è pace, diciamo, gli hanno menato, cioè, no, il giorno dopo, hanno leggermente sentito questa affermazione, dicendo, no, non si fa, no, ma dato inizio, sono tre asportazioni, anche perché, diciamo, sì, è rimasto, sì, sì, perché c'è pure affermazione, esatto, ecco, l'ho usato un coltello super, non è un coltello, sì, è un coltello, diciamo, una caccia, come posso dire, no, 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 io credo, scriviamo delle leggiere, le leggiere, allora, ogni caso, tutti i giornalisti, il tranneggiato, no, voglio, il tranneggiato, il tranneggiato, io lego sempre, grazie, no, ma è bellissimo che il mostro di Firenze come Pasolini, come il caso Pasolini, il caso Simonetta e Chetaroni, sono quattro, cinque, quelli particolari, danno adito al mondo della fantasia e poi, come questo mi capita anche di una persona, quando succede qualcosa c'è un qualche pralegamento, il figlio della portinaia, del cugino, del fratello, del macellaio, la conosceva, cioè, dodici collegamenti, eccetera, guarda, c'è che abbiamo Sant'Angelo, che è un mito, che credo che pochi conoscete, il cosiddetto dottor Sant'Angelo, che a un certo punto, credo dopo il terzo, quarto, il quattro, il quattro, il quattro, si accorgono, che nell'autopsia, però va da memoria, non mi ricordo, era il terzo, il quattro, c'era un tal Sant'Angelo, e qualcuno gli dice alla polizia, guardate che lui, stava l'autopsia, ma non era medico, come era medico, prendono questo Sant'Angelo, lo portano in, il procuratore lo porta, e lui dice, no, ma io ogni tanto vado all'utilorio, perché mi piace, era talmente di casa, che lo chiamavano, dottor Sant'Angelo, e nessuno si preoccupò, alcuno della sua presenza, e sembra che abbia fatto, due adopsia, dato che era di buona famiglia, lui risiedeva in albergo, che però, indispensabilmente, doveva dare, vista cimitero, sembra, sembra, sembra un leggero, quando lui parla al procuratore, il procuratore, stringe la mano, e gli fa, guardi, non si preoccupi, lei è troppo, scemo, per essere il mostro di silenzio, e lui, grazie procuratore, cioè, per dirvi che, il mondo di un'indagine, è un mondo particolare, si trova veramente in tutto, mi piace anche spezzare un pochino, il solato, ma senti, a proposito di collegamenti, che si fa, con casi, eccetera, allora, gli indizi, no, che ci sono, su Macciane, che si trova Perugini, sono poi, stati molto, dibattuti, e io ho letto, tu hai scritto, che Perugini, aveva due, aveva due, due cose, che non faccio, che non trovava, sulla vicenda del mostro, uno che, non avesse confessato, e la seconda cosa, era, di aver trovato, paradossalmente, il, il proiettile, nel giardino, di Pacciani, perché, perché poi, questo proiettile, è stato, contestato, in vari modi, si è, pura, ipotizzato, perché non ce l'avessero messo, messo, messo la polizia, dico, e il collegamento, mi viene, anche sulla cronaca, di, di, giorni, no, anche, quella recente, siamo con, un'idroza, a caso di erba, per cui, c'è il carabiniere, che ha messo, la, viene accusato, di aver messo, la macchia di sangue, si viene accusato, di aver, escorto, una confessione, si viene accusato, di aver, quindi, in tutti i casi, no, c'è sempre un po', questo complotto, questa, questa idea del complotto, della polizia, che a tutti i possiedi, del carrivo, il complotto, e fa delle cose pazzesche, tu che l'hai conosciuto, lui, intanto, diciamo che, è il modo, infatti, lo dico, piccola premessa, a noi piace tanto, il complotto, esatto, quindi, quando c'è qualcosa, non va, uno dice, c'è qualcosa, a livelli, che noi non conosciamo, i servizi, avranno messo mano, la realtà, non è questa, cioè, ho, il figino, del fratellario, del macinario, di prima, che mi ha detto una cosa, che non posso dire, cioè, ho scritto un libro, su Pasolini, cioè, io ho scritto un libro, su Pasolini, ogni persona, con contratto, per un anno, ha detto questa frase, ognuno, ha scritto un libro, su Pasolini, senza chiamarmi prima, ma lo sai, quello che so io, no, ho scoperto, migliaia di persone, per sapere qualcosa, che altri non sa, no, è una delle grandi, due luci, di Perugine, il primo, realmente, perché lui, era convinto, che Pacciani, avrebbe confessato, lui era convinto, ha detto, io sono certo, che Pacciani, prima o poi, me l'avrebbe detto, abbiamo accelerato, un momento, il processo, è stato sbaglio, perché lui avrebbe parlato, lui era convinto, di questo, la seconda, è la cartuccia, che, qui è un articolo, ma che non ho scritto, per già, racconto, racconto, di come sia assurdo, pensare, che sia un falso, allora, nell'orto di Pacciani, viene trovata, una cartuccia, che, secondo i periti, è stata, inserita, nella pistola, che ha sparato, mai trovata, i colpi, di tutti, i duplici, significa, che la cartuccia, era stata inserita, per i tecnici, era stata, scarellata, quindi, levata dalla pistola, ma, questa azione, lascia due microsegni, i periti, confrontano, questi due microsegni, e dicono, sì, è la stessa, di il bossolo, primo dubbio, ma, se io devo fare un falso, prendo una cartuccia, che non so, dove l'ho presa, perché la pistola, non c'è, la nascondo, nel terreno, cinque anni, prima, e dico, speriamo, che prima o poi, qualcuno lo trova, in tutto questo, questa cartuccia, che viene inserita, una pistola, che io non ho, che ho trovato, cinque anni prima, perché, perché ogni pistola, lascia un segno diverso, quindi, devi avere la pistola, per poter simulare, il segno della pistola, perché, non solo, questi segni, non sono, i più caratterizzanti, in assoluto, balistici, ma, se io ho tutti, i bossoli, del mondo, sparati, orialmente, ma io ne prendo, uno, cioè, volessi veramente, essere disonesso, prendo un bossolo, realmente sparato, che ha segni diversi, più caratterizzanti, quindi, calcolando, ma, una marea, non solo, la gestione, dei reperti, del 68, precedente, era, particolare, cioè, non è che, come adesso, che è tutto, ben schematico, allora era, prendiamo il bossolo, mettiamo una bustina, e spigliamoli al fascicolo, eh, siamo così, quindi, assoluto, il punto è che poi, la cartuccia, viene vista da Pacciani, scusate, viene vista da Pacciani, però, da più, che la vede in un paletto, interrà, la vede, e lui dirà sempre, anche in dibattimento, vedo un barlume, mi avvicino, vedo che è qualcosa, a quel punto, faccio dire, una telecamera, allora, forse la c'è ripresa, allora, e la estraggo davanti, le riprese, quando lui, in dibattimento, dirà, ho visto un barlume, là c'è stata la contestazione, come, alle 5.25, un barlume, l'orario è quello, il sole, questo mi sbaglio, io per Ferugini, ero una persona che parlava di così, cioè, non avrebbe mai detto, ho visto una cartuccia, no, l'ambito, la sera, allora, il suo modo, di raccontare le cose, anche, un po' celo grafico, però è la sua natura, cioè, non è che diceva, io, di Ferugini, ho una sima in buro, se, di Ferugini, mai avesse detto, è l'omino verde, con l'antenna, che ha fatto, il duplice omicidio, gli avrei detto, qui stavo parlando, l'omino verde, ma perché, ma non perché mi dova convincere, perché era una persona, un galantuomo, è una persona come, ce ne sono pochi, in giro, compreso me, che è una persona, 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 lui dice, non vi so, non c'è il, non c'è il, quindi, lui ha trovato la cartuccia, a casa di Pacciani, trovi, uno, un blocco, schizzo e brunner, con delle cifre, dietro, scritte a matita, si fa una ricerca, in Germania, quella è venuta, da una, in una cartoleria, proprio quella, che ti dice, quel blocco, con quelle cifre, indicavano l'anno, dell'otto, dell'otto, della loro vendita, e qui era antecedente, al duplice omicidio, dei tedeschi, apri il blocco, dentro ci sono, due appunti di Pacciani, una pagina, due appunti di Pacciani, con date costume, ma, tipo, se ho comprati il latte, era data, un minimo di dubbio, un fatto che sono altre parti, se non c'era, ecco, piccole cose, poi, ho trovato molte cose, che venivano dalla Germania, anche su di Pacciani, oltre al, sì, poi là c'è stato, un altro particolare, che ha colpito molto, in modo, diciamo, per piccoli, negativo, la parte processuale, che è il famoso quadro, sogno di fantascienza, perché là, Pacciani e il Pubblico Messero, là, non si sono, lo sono compresi, scusate, Perugini e il Pubblico Messero, perché Perugini lo trova a casa di lui, il Pacciani, era un quadro, con immagini demoni, anche, sì, era molto particolare, era, era un quadro, che era, tipo, guernica, no, per chiamerci un po', così, però il Pacciani, io l'ho trovato a discarica, era lui, che l'aveva dipinto, cioè, il quadro era bianchenello, che era colorato, e invece, il PM dirà, l'ha fatto lui, e poi, ovviamente, esce fuori, o non l'ha fatto giustamente lui, cambia poco, il tema, cileno, però, chiaramente, questo ha fatto pensare, sono quelle cose, che nel processo succede, però, inoltre, la parte, è un po' l'altro, che è un po' l'altro, che è un po' l'altro, che è un po' l'altro, era di mio fratello, ma, come, porta a scendere, quindi, quello pure, ci stiamo parlando, cioè, l'indizio singolo, che puoi portare all'omicidio, però è il quadro, che ti riporto. e quello, tra l'altro, dei tedeschi, è l'unico caso, dove il mostro, ha ammazzato due uomini, no? E quindi, non ha potuto portarsi via, un feticio, un'ipotesi, anziché il feticio, si sia portato via, degli oggetti, a ricordo, della scendio. C'era sicuramente qualcosa, tutto e poi, da quello che si può sapere, perché poi, le borsette, che vengono anche sfrugate, poi, alla fine, quello che realmente, non tenevano, era difficile, no? A posteriori, però lui, non per il libro, anche alcune volte, i sommi di peccato, non venivano presi, cioè, per lui, è portato più felice. Ricordiamoci che, Pacciani, che ha sempre fatto, laurenti di fortuna, è stato, dicono quanti anni, in vari 12 anni, però va da memoria, sull'omicidio, della, del 51. Pacciani, che ha fatto sempre, laurenti di fortuna, aveva un patrimonio, molto come si sente, e questo patrimonio, secondo il vergini, come se ne era, allora, Perlucene è sempre andato, contro, un livello superiore, che acquistava i fetici, per lui, per lui, no, non era, per lui, no, per lui, no, lui riteneva, che, tutti i soldi, che aveva Pacciani, era proprio, il suo stile di vita, è pur vera una cosa, comprare alle figlie, il cibo dei cani, e praticamente, le figlie, compravano il sacco, nel cibo dei cani, quindi, effettivamente, i soldi delle figlie, che lavoravano, come, ragazze, per delle polizie, o meno, li prendevano tutti lui, certo, non sappiamo, però, diciamo, secondo Pacciani, era quella, e riteneva, che i fetici, come se fosse accaduto, in questa tipologia, forse, come dice, in genere, l'omicida, li mangia, però, in questo caso, potrebbe averli dati da mangiare, lui, aveva questa condizione, è bene, però, erano i voti, spaziali, lo vediamo, che è così, è una delle cose, facciare friggere, cucinare, i fetici, per fare, ma è proprio una questione, psicologica, perché non può, subbiarsi della vittima, non può inserirla, addirittura, averla, averla, inserirla, proprio, io l'ho messo in tre mesi, ce l'ho sempre, generalmente, poi c'è un altro fattore, del filigio reale, che, come Pacciani, cioè, in genere, diceva, cioè, noi non possiamo sapere, se durante un pubblico, uccidio, lui portassi via, il pettilino, della vittima, una moneta, 100 lire, una otis, inserirla, allora, i 100 lire, perché lui, le visteva dentro il cassetto, ogni altro, le prendeva, le vedeva, e si ricordava, e così, dice, alcune cose, che stavano dentro casa, forse appartenevano, ai barri, però, lui dice, questo, possiamo sapere, potrebbe essere, qualunque cosa, comune, a me non dice nulla, e invece, un'altra, che è un'altra, che è importante, ma, il fatto che, Pacciani, però, avessi un lavoro con quelle donne, molto bioetico, e il fatto che, il vostro di Firenze, non più, le giudasse, le sue vittime, varie, potesse, evalisa, poi, c'è, deve essere Valentina Marselzi, è uguale a uno psichiatra, però, diciamo che, diciamo che, da questo punto di vista, possiamo dire che, non cambia di molto, cioè, lì, comunque, si appropiava, della vita al futuro, poi, quello che si c'era, in questo momento, io, mi ricordo, che, il tuo ambiente, lavoravo, di elezioni, di situazione, di una, di un'unica, di un'unica, allora, non possiamo spiegare, anche perché, ricordiamoci, che l'ultimo, duplice omicidio, avviene, nell'85, come in Italia, credo, nel 91, abbiamo messo, a trattare un po' di più, il DNA, scusate, il DNA, sul traccesivo, e il modello, per, cioè, sei anni prima, ovviamente, non ci sono, la loro, sì, secondo te, con le tecniche, di oggi, sarebbe possibile, rianalizzare, qualche reperto, di tipo, per trovare, appunto, come avviene, qualcosa di più, allora, a priori, direi di sì, passamente, però, da quelle, le notizie che ho, che credo, sia abbastanza, affendibili, che si stava già, facendo in futuro, nell'ultimo anno, e la tenda, hanno rianalizzato, la tenda, hanno trovato, degli eteri, conficcato, nel materassino, di cui non si erano accorti, all'epoca, e non hanno trovato, tracce di DNA, nei punti nevragici, sull'anco, no? Perché, comunque, non lo giocavano, avevano sempre l'arma, cioè, non possiamo capire, però, attualmente, da dove si trova, però, si ha altri reperti, allora, probabilmente, la tenda, utilizzata dai francesi, entrata in contatto, con omicida, perché il corpo di lei, la moriotosi, viene trovata, all'interno, con la chiusura, l'acqua, abbassata, quindi, sicuramente, l'interazione, l'acqua è stata, però, gli addiricci, di diverse, di immediatezza, purtroppo, non c'è stata un'altra, e poi, non so nemmeno, se ci sono stati, ma, di tutti, ho dei discorsi, tutti, in questo caso, e adesso, il prossimo libro, la domanda, il prossimo libro, in durimentoria, consigliato, pure abbastanza presto, dovrebbe essere, il suo Emanuele O'Glano, un caro, disegnativo, senza delle cosi, dovrebbe essere, in senso, perché, Marco, di Dore, non consigliato, in realtà, dovrebbe, consigliato, e siamo in ritardo, ma, di colpa vostra, sono qui, a quest'ora, mi ha distrutto, vabbè, ti giustificiamo, no, però, assolutamente, in questi giorni, per alcun insegnato, penso, tra un mese, e d'accionate prima, se vanno in ordine, all'interviste, con l'interviste, l'idea, diciamo, che ho avuto, è di far parlare, chi ha lavorato, che può essere, il fratello Pietro, ovviamente, la tutta Maria Solita Gregorio, la sorella di Mirella, Raffaella Notariale, che ha dato un grosso mandatito, sull'intervista, relativa a Uslami Nardi, tutte interviste, casellate, ovviamente, poi vediamo quello che è, vediamo, vediamo quello che è, speriamo che, se ne esca qualcosa, è quanto meno legito, non tenute, non posso assicurare, vediamo se qualcuno ha qualche domanda, magari, qualche curiosità, su perucini, su qualche cosa che non è chiara, che non abbiamo spiegato, penso che non è che spiegato, ma quello che ti ci pare, quindi, di quasi del secondo, ma questo secondo livello, perché, cioè, del collegamento, con questo matomato, su secondo livello, e la figura del farmacista, allora, no, 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 ecco, tocchiamo un argomento molto interessante, esatto, allora, perché è molto importante, perché ho conosciuto la figlia di Calamandrelli, è Calamandrelli, ecco, mi rispondavo, cioè, è veramente, vi permetto di dire, una asperatissima assurdità, ma veramente grande, perché, noi, purtroppo, molto spesso, legge l'articolo, però non sai che c'è un mondo dietro, Calamandrelli, è un farmacista, che aveva una vita ultra rispettabile, e la, a un certo punto, poverina, la moglie, non stava bene, non stava bene veramente, a livello, i corpi, riduce al marito, dicendo, di fetici, che trovava, nel frigorifo, cioè, era facile capire, che non era vero, era facile riscontrare, che non era vero, era facile dire, ok, non è vero, dopo che sono stati fatti i riscontri, invece, ha dovuto subire un processo, di cui ne è uscita totalmente, ovviamente, innocenta, perché, stavolano, cose assurde, e quindi, poverino, è deceduto, è deceduto, veramente, con questo, immaginare, veramente una brava persona, che però, viene, in circostanze, opportune, quindi, io sono, credo nel secondo livello, ma a parte questo, quantomeno, non c'è nessun indizio, nessun indizio, di un qualcuno, ecco, quello è importante, e poi, è un po' maffinoso, tra voi, poi, iniziano a esercivi, in sardari, esattari, poi, dovevo parlare, per ore, il famoso mago, che loro vedevano, che si chiamava, il dovino, come si può chiamare, il mago, il dovino, però, andiamo su un discorso, andiamo su un discorso, se tutto è possibile, non è possibile, però vi dico questo, solo, io faccio, passano te mismo, uccido un dupo, oppure per ascoltare, il vaticcio, perché c'è qualcuno, che me lo compra, mi sbaglio, e uccido due, ragazzi tedeschi, ma, un'ora dopo, lo rifaccio, perché comunque, ho qualcuno, che mi compra, è il vaticcio, cioè, la prima cosa, viene in mente, c'è un po' che c'è, non c'è, niente, quindi, faccio domande, in curiosità, altre ipotesi, chi crede a Bagiani, e a Sussino, vostro? È difficile, sì, è difficile, è difficile, perché poi, noi abbiamo una visione, che non è, no, la visione, è una visione completa, c'è una visione, ma, l'attivata, pensando come una persona, con una stessa efficienza, incapace di, no, però, sì, guardate, su Google, ci sono, i video di processo, facciati, stiamo vedendo, per forza, è, è, è un'unione pregno, sì, sì, ma, se l'ascoltate, ma, lui, è proprio, a parte che è un attore, è un attore, è estrio, è capace di, piangere, Lugini diceva, lui è un affabucatore, lui si mettiavano là, e, lui diceva, la capacità linguistica, è un attore, e subivo la, la personalità, che, Lugini è una persona, con una fortissima personalità, e poi diceva, quando stavo con il facciano, lui andava sempre a trovare il caso, e subivo, la sua persona, e aveva un carisma, un carisma, particolarissimo, e aveva questa sua, a mini porte, di 400 persone, anche il linguaggio, per essere un contadino, se fosse stato partorito, dalla vita, di un romanziero, sarebbe stato un capolavoro, un facciano, per il cliente, un linguaggio, complessivo, una personalità, un testo, e mi sicuro, non ho avuto un periodo, sì, ma la parte della serie, in televisione, sì, credo che le serie, su facciane, promossi diretti, certo, è proprio che, a livello mediatico, Pacciani tira sicuramente, meno, dei grandi seriarchivi, affascinati, certo, perché, risce, Perché poi lo vedi, è bravo, esatto, per ieri, esattamente, invece non può essere, però se si vedono, le foto di Pacciani, perché noi abbiamo, l'immagine di lui, quando è stato arrestato, da una certa età, appunto, ma, negli anni pubblicitensi, era un uomo anche, particolo, da giovane, appunto, magro, eccetera, gli anni era, più, per gli uomini, però, un uomo, particolare, vediamo sempre il discorso, tu sei la mia ragazza, esatto, ci vuole un po' di, allora, ringrazio prima Iudet, grazie a tutti, 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 grazie a tutti,